E ci arriva la notizia, in vero straziante, di una 55enne di Baronissi, nel Salernitano, che portando in braccio il suo cagnolino, ha tentato di suicidarsi sdraiandosi sui binari del treno nelle vicinanze della stazione di Baronissi. La bravura del personale del treno, che ha frenato prontamente, ha salvato la vita della donna che aveva anche scritto una lettera di addio lasciata in uno zaino rinvenuto dalla polizia a fianco al treno. La donna aveva scelto attentamente l'area dove suicidarsi, nascosta a 300 metri circa nella sterpaglia in direzione Fisciano. Il medico del 118, dottor Giovanni Zito, è riuscito ad infilarsi sotto il treno e ad estrarre viva la donna grazie o l'ausilio della spinale, portandola in salvo nonostante una ferita lacero contusa al capo, sanguinante, un trauma cranico, una sospetta frattura dell'avambraccio sinistro e contusioni varie. L'intero equipaggio della Croce Bianca di Salerno, intervenuta sia con due ambulanze che con l'automedica, ha condotto prontamente la donna al pronto soccorso del Ruggi ove la donna ha ricevuto tutte le cure del caso, anche dal punto di vista psicologico, e dove è stata seguita anche dalla polizia che ha provveduto a raccogliere tutte le informazioni del caso, continuando ad assistere moralmente la donna. Nella lettera di addio lasciata nello zaino, sono indicate le ragioni del gesto, cioè l'essere rimasta senza soldi per aver perduto il reddito di cittadinanza, unica promessa della campagna elettorale mantenuta da Giorgia Meloni e dal suo governo. Vi è da dire che ancora non è giunta la data della consueta ricarica mensile del reddito di cittadinanza, normalmente fissata al 27 del mese. È evidente che di casi come questi ce ne saranno a Iosa nei prossimi giorni e mesi. Questo accade quando al governo vanno dilettanti allo sbaraglio. Certamente può capitare ad un governo di fare interventi duri, ma contestualmente non bisognerebbe sprecare soldi fornendo immensi capitali di armi alla Ucraina, con cui non centriamo niente, o continuando a dare circa 1.100 euro al mese a tutti i migranti, anche se clandestini, e soprattutto senza contestualmente aumentare stipendi, bonus e vitalizi dei nostri parlamentari e governanti, come è invece accaduto. Questo è letteralmente scandaloso. Si toglie il pane a milioni di poveri, e ci si aumenta gli stipendi parlamentari, i bonus e così via. Come detto, fortunatamente, la donna di Baronissi non è in pericolo di vita, ma prepariamoci ad assistere a centinaia, se non migliaia, di questi casi nei prossimi tempi. E se è vero che a gennaio il reddito di cittadinanza sarà sostituito, anche se in modo molto ridotto, dal reddito di inclusione, è altrettanto vero che è impossibile sopravvivere per 5 mesi senza soldi, considerando ad esempio le bollette di luce e acqua, l'affitto, ed un minimo di vitto. 5 mesi sono effettivamente quasi impossibili da attraversare. Chi invece non si suiciderà, si darà probabilmente alla microcriminalità, cioè rapine, furti in appartamenti, spaccio di droga e così via. Aumentando esponenzialmente l'insicurezza, già notevole, delle nostre città. Insomma questo governo Meloni sta riuscendo a fare molto più peggio del possibile e dell'immaginabile. Ed alcuni avvocati stanno già valutando la possibilità di denunciare Giorgia Meloni e il suo governo per istigazione al suicidio di questa donna di Baronissi. Giorgia Meloni